San Nicola da Crissa non funzionano i termosifoni, scuola media chiusa. Scuola secondaria di primo grado chiusa a San Nicola da Crissa, lo ha disposto il sindaco Giuseppe Condello con un'apposita ordinanza in cui si dà come motivazione i lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento. Un provvedimento adottato al fine di tutelare la salute degli utilizzatori della struttura è arrivato in seguito in una segnalazione circa il malfunzionamento dei termosifoni. Da qui la verifica da parte dell'ente che ha rilevato delle criticità e dunque la necessità di intervenire anche in considerazione del fatto che l'eccezionale ondata di freddo in atto potrebbe comportare pregiudizio per l'incomunità del personale scolastico, docenti, personale ATA e studenti.